eccoci sono carini con il faretto così vengono benissimo ah puoi fare la macchina pure? così va bene già così è solo che è sotto cazzo c'è il vestito davanti eh lo so appunto eh lo so ma la macchina è passata no così va bene ho no eh c'è il vestito davanti no eccolo sta qua c'è il vestito no qua davanti no è qua è qua è qua eh? sono già in fuga? pure di piano eh pure di piano eh numero uno dai che mancano 298 chilometri siamo quasi arrivati compà no qua ti ripariamo anche per l'acqua c'era un po' c'era un po' c'era poco poco due per il filo per il passo animale siamo in due faccini ma questo è bellissimo c'è la macchina lì? sì sì l'avevo scelta lì sì sì l'avevo scelta lì sì lì sì lì